Buongiorno a la cameretta magica, benvenuti oggi per assagiremo il Magnum Euphoria Allora, in poche parole con gusto Pink Lemonade, c'è limone e mirtilli o mi sa lamponi Sorbetto e popping candy, cioè delle caramelle caramelline e il sorbetto Comunque voglio salutare Melanie e Daniele Comunque, allora, qui lo scatolo è molto molto bello L'ho preso comunque al centro commerciale della noce alla Conad Comunque, ok, adesso andiamo a aprire la confezione Un pacco da tre comunque Adesso, dunque Magnum Euphoria Pink Lemonade Adesso assaggiamo Buonissimo, vuol tornare a 10 di dare un bel 9, quindi ve lo consiglio se lo tornare in giro Che dire, niente, vediamo la prossima Che dire, niente, vediamo la prossima